La mostra Terremotus, Geografie e storie dell'Italia fragile, è una grande mostra fotografica che attraverso 124 immagini cerca di fare il punto sul tempo del doposisma in questo paese. Quest'anno ricorre il decennale del sisma che mise in ginocchio la città dell'Aquila. Era inevitabile cercare di mettere in luce soprattutto i limiti, i ritardi della ricostruzione perché è vero certamente l'Aquila sta faticosamente rinascendo, all'Aquila c'è il più grande cantiere d'Europa, ma bisogna immaginare che all'Aquila in dieci anni non una scuola è stata ricostruita. Nel tempo di questi dieci anni, e noi cerchiamo anche di raccontarlo in questa mostra, ci sono 140 paesi fra l'Umbria, il Lazio, le Marche e l'Abruzzo dove il tempo s'è fermato, dove la parola ricostruzione appare ancora un miraggio, è tempo che si inizi a declinare un verbo dimenticato in questo paese che è il verbo prevenire. In questo paese ci si accorge dei terremoti e delle catastrofe naturali sempre troppo tardi e il paese del senno di poi, eppure i sismologi ci insegnano che esiste la cosiddetta vulnerabilità dimenticata. Noi non possiamo sapere quando la terra tremerà, sappiamo semplicemente che laddove essa nel corso dei secoli ha tremato, verrà un tempo, verrà un giorno, il più tardi possibile il nostro ospicio naturalmente, in cui essa tornerà nuovamente a tremare. Proprio in occasione della mostra Terremotus noi presentiamo per la prima volta un progetto video realizzato dalla giornalista Ilaria Romano, si chiama Immota Manet, Sinfonia per l'Aquila, una lunga sequenza diciamo direi di video con un approccio video installativo nel tentativo di raccontare i silenzi e i rumori, le voci, i cicli di vita della città dell'Aquila oggi. Ora il nostro desiderio attraverso Terremotus, geografie e storie dell'Italia fragile, non era e non è quello di realizzare una bella mostra. Noi vorremmo che Terremotus fosse utile, fosse l'occasione per poter operare una riflessione di più rispetto alla mancata presa in carico dei destini, dei luoghi e delle comunità che abitano l'Italia fragile, che mi piace ribadire una volta di più, ebbene è l'anima di questo paese. Grazie. Grazie.